Tele D'Urruti, una televisione monolocale. Sulla Repubblica di oggi si parla di un oggetto di cui ignoravo l'esistenza, il bracciale misura emozioni. Vediamo se riesci a leggerlo. Il bracciale misura emozioni che avrebbe scatato l'interesse del mit. Cosa ti dice il bracciale misura emozioni? Ti dà in qualche modo una mappa, traccia i tuoi stati d'animo rispetto al mondo. Anche noi abbiamo realizzato il nostro bracciale misura emozioni. Eccolo. Lo vedi? Cazzo? Ficca. Ficca funziona un po' meno. I nostri laboratori devono metterlo ancora al punto. Cazzo? Viene bene. Ficca? Ecco, ecco Ficca. Cazzo? Ficca. Cazzo? Ficca. Il bracciale misura emozioni. Anche noi lo abbiamo. Tele D'Urruti, una televisione monolocale. Il Marchese Fulvio Abate. Cazzo? Ficca. Tavolocale.